La Commissione ricomincia da Piano d'Orta di Bolognano, dovevamo vedere appunto il sito della ex Montecatini con tutti quanti i commissari che hanno avuto l'opportunità sia di vedere in loco la situazione sia di fare una fotografia amministrativa grazie all'Arta, alla Polizia Provinciale e al Servizio di Gestione dei Rifiuti che sono stati con noi in un momento importante perché il 30 giugno è appunto fissata una conferenza decisoria al Ministero su un piano di rischio che Edison adesso ha già presentato e che se ha provato potrebbe dare il là alla bonifica di quest'area poi ci sono tanti altri aspetti naturalmente insieme a questo che sicuramente non è facile uno è quello proprio della riperimetrazione che è già venuta rispetto a una delibera della Giunta regionale del 2018 il 3 febbraio del 2020 quindi a due anni di distanza ma nel frattempo l'Arta ha scoperto altri materiali pericolosi sia sopra terra che sottoterra e quindi inquinanti anche rispetto alle falde e quindi la Regione dovrà decidere se avanzare una nuova proposta di riperimetrazione